Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sempre il tizio che sta appeso Oh ma invece no ci sono due barrette energetiche Che culo Lurp Perché mi stiamo spammando di una clip che sta andando virale adesso di te che predicti il terremoto in Turchia? Ah si Stavo una di Gary su LOL e gli faccio tipo un mese fa gli faccio Tanto il prossimo sei tu Godo quando non c'avrai più una casa Fazzò? Eh vedi a mettersi contro di me su LOL è tragica Ma sei un terrorista Aero su FIFA? Godo ancora di più Beh è strano che allora non era su LOL Un po' becchiamo dei Simpson e Fazzone con le prediction E' un po' troppe prediction da parte mia Ragazzi viva la Pazza segnala il canale e fate tranquillamente eh Giammo non te lo voglio dire ma Secondo me Il prossimo potresti essere veramente No ragazzi Pazza vedete cosa Si vede Perchè hai messo un po' con lì? No Giammo che fai? No Giammo che fai? No Giammo ma che fai? Cioè io devo vedere la clip ma è letteralmente rimasto fermo non è possibile dai Non ha un cuore e un'anima porca madonna No vabbè no un po' un po' comunque Si DREAM ON Ok DREAM ON Vai Eh sarò un po' più lento No Io e Cash andiamo un po' più veloce Ma vai 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 Jack Jack Ragazzi non c'è letteralmente niente, non c'è niente, perché mi dovete dire le cazzate non mi fate agitare, per NGOs, che già oggi sento rumori strani, ci sono gli spagnoli che scopano e invece di fa ah 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 fanno Quella risata del cazzo! Maledetti figli di troia! Se ci fosse qualcuno si paleserebbe adesso! Maledetti figli di troppo di troppo! Maledetti figli di troppo di troppo! Yes, yes, yes! Maledetti figli di troppo di troppo! Letteralmente non ho idea di che cosa... Beh, via facendo... Giamo sicuramente... Oh, Temporale! Eh? D'anni diversi in Italia! Deve essere Sidney! Buon imprenso! Bisogna copierlo in... In base a quello... A quello che scrive! Venti! secondo me aspetta non ce la faccio più ragazzi sto andando down bad lo stiamo perdendo lo stiamo perdendo cazzo c'ha 26 anni pensa perché porco dio rito no la clip dell'anno brotherman cala tu sei in birbaccione perché prendi la massima no giammò io vado addio giammò vai ci sto dream on dream on ma proprio un albero dovevo prendere non ti come spruzza il maestro porco dio sto coglione ma in me però sto piuttando ma di nuovo ma capirò po forse ale senti quegli altri ma che io arrivo dream on ma mi sono fatto un volo clamoroso no madonna ma come si divertono ma ho preso un albero ma ci stavo arrivando ma sto facendo un volo clamoroso ma corre no facciamo così mi avventuro ma come stavo capì se c'è lo sharknado mi alzi mi stai un po' ok rimando un po' dietro di te mi stai un po' a debita a distanza mi stai un po' a debita ma non mi stai un po' a debita ma che sta per finire il mese dal toscano del caso e torneranno tutti a casa che c'è no no non so mai sei uno sharknado oh cazzo però ammetto non lo so non se sa mai perché non lo so almeno è come se vai next lavora come modello si e te nannaggia questa baledetta buonasera grandi romai che hit green screenate ciccio gamer oh il verno non c'è un po' di vita eh ma più che altro se si alleggi quello prendi poi ti strofini gli occhi è finito allora voi siete usciti dalla caverna erano lì si bisogna andare lì bisogna andare lì andiamo lì noi dobbiamo andare andiamo bisogna andare in quello sulla spiaggia in alto è il vero killer di meridionali capito? bisogna fare una costruzione uguta devo usare il 73% della mia intelligenza ragazzi c'è qualcuno che mi dà due medicine buguta ma devi ci devi boostare prima quando avete boostato raga per far qualcosa è un po' dopo io sto già avanti eh per dirlo cazzo bisogna prenderlo con un saltino così ma che cazzo si c'è io giuro che il primo checkpoint lo prendo eh Luca grazie per i tre voi siete usciti dalla caverna lì si bisogna andare lì bisogna andare lì andiamo lì dove dobbiamo andare andiamo bisogna andare in quello sulla spiaggia in alto è il vero killer di meridionali lui capito? questo è il binario di pistola questo è si qua dentro sarà in glicente ti giuro voglio ucciderti voglio ammazzarti voglio trovarti da qualche parte perso nel nel cosmo umano ci sono i tronchi che volano ma che sono i tronchi volanti un'altra spiaggia che cosa è non l'altro non l'altro è il vino buona prima